ciao riceva frutte benvenuto bentornate nuovamente se tu invece non mi conosci il mio nome è verenis e ti invito ad iscriverti a questo canale oggi staremo facendo la maschera capillare di idratazione e l'ingrediente fondamentale di cui avremo bisogno è una foglia o foglie di aloe vera le quale andremo a mettere a bagno però diciamo io l'ho messo per quattro ore più o meno nell'acqua perché quando una foglia di questa pianta viene ferita viene tagliata reagisce rilasciando un lattice giallastro che a contatto con l'aria si ossida e assume una colorazione bruna il componente principale di questo lattice è l'aloina una sostanza irritante per la pelle ed è il motivo di qualsiasi reazione o disagio che le persone sentono quando non fanno questo passaggio se la lascia in diciamo in ammollo andrà a rilasciare questo lattice giallastro veramente non andrà a se non andrete a sentire plurito nei capelli dopo che avete lasciato diciamo in posa queste foglie dopo quello che dobbiamo fare è estrarre il cristallo no l'aloe il gel che c'è in messo queste foglie di aloe che io sono di un'altra specie e quindi hanno poco gel all'interno quindi ho dovuto veramente faticare e prendere tante foglie per poter estrarre una x quantità di di aloe e l'ho grattato con il cottello però se avete la possibilità di trovare una foglia di aloe un pochettino più ciciotella sarà anche più facile tutta la la procedura e dopo di che siccome era più era molto tardi io ho lasciato il barattolino con con l'aloe con il gel in frio fino all'altro giorno e quello che ho fatto è prendere un dito di acqua e frullare quella quel pochettino di gel che ho strato frullarlo con questa acqua per amalgamarlo e per allungare ovviamente le quantità quindi frullate bene io ho utilizzato un frullatore ad immersione e questo frullatore è abbastanza efficace e buono ho messo la massima velocità e semplicemente ho frullato per almeno un minuto costantemente per diluire ed allargare la quantità di aloe vera dopo di dopo di che per evitare che mi rimanessero dei dei residui in testa dopo che ho frullato questo aloe vera ho semplicemente filtrato il tutto e quindi mi rimasto soltanto l'acqua limpida di aloe vera alla quale ho aggiunto un po di amido di mais per addensarla e l'ho portato a bollire nel fuoco nel fuoco alto non mi sono spostata assolutamente perché come sapete l'amido di mais in fondo la prima parte che inizia a diventare spesa perché la prima parte contatto con il calore e generalmente si attacca si brucia quindi dovete mischiare costantemente dopo di che ho aggiunto il tutto molto denso nel barattolino che io per le maschere capillare e ho aggiunto un po di balsamo io sto utilizzando questo di nature's best perché è un balsamo che mi piace però non è dei miei preferiti e quindi per non lasciarli lì finché si diciamo scade per utilizzarlo no per riciclarlo io lo uso per le maschere capillare però è un ottimo 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 balsamo e dopo niente l'ho lasciato lì in posa e sono andata a lavarmi i capelli è importante lasciare un po in posa le maschere perché tante volte ragazze non le applichiamo subito non abbiamo lasciato che si amalgono amalghi amalgano amalgano bene non lo so adesso non mi esce la congiugazione bene di questa parola però vogliamo che si riposi un po questa maschera soprattutto quando stiamo aggiungendo del balsamo e gli ingredienti del balsamo delle e della maschera fai date che abbiamo fatto voglio vogliamo che si uniscano bene in modo da poter penetrare meglio all'interno de dei capelli e quindi sono andata a lavare i capelli con lo shampoo e dopo di che ero prontissima ho lavato i capelli siccome è passato un mese dall'ultimo detox oggi sto utilizzando la linea di equilibria questa qua la quale avete visto già il video recensione alla vostra destra vi stavo mettendo il link ho fatto prima dello shampoo o districato i capelli con questa maschera di botani che a me piace tantissimo quasi finita ma tanto che ce l'ho perché un chilo di prodotto vi lascio sempre nella vostra destra il link per andare a vedere la recensione e dopo che ho districato con il balsamo ho applicato lo shampoo e dopo lo shampoo non ho applicato nient'altro perché adesso quello che dobbiamo fare è applicare la maschera andiamo a vedere quali sono i benefici dell'aloe vera per i capelli l'aloe si distingue per il suo ricco contenuto di vitamine minerali aminoacidi ed enzimi benefici per la cura della pelle composti composti come arginina ed enzimi migliorano la circolazione sanguigna mentre la saponina pulisce i pori e migliora la guarigione il suo valore nutritivo che raggiunge più di 75 composti fornisce anche queste ottime proprietà nei capelli ovvero è idratante rigenerante stimola la circolazione sanguigna e rivitalizza il cuoio capelluto nutre i capelli regola il piaccia e il piace della pelle deterge e bilancia la produzione di sebo e ferma l'invecchiamento dei capelli perciò tutte proprietà che stiamo cercando in questa maschera capillare perciò io vi consiglio come vi dico sempre le maschere capillare dopo shampoo tranne alcune per esempio nella nutrizione l'olio di ricino per la sua densità per come composto quest'olio è meglio farlo prima dello shampoo però per il resto la maggior parte delle maschere vanno dopo lo shampoo con i capelli ben puliti allora ho sciacquato già i capelli ok ancora sono un po bagnati sono asciutti 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 bene e siccome sto facendo la routine anche di detox perché coincide con con la maschera con la con il cronogramma con una delle maschere capillare il cronogramma ho finito dopo che ho sciacquato con abbondante acqua ho finito utilizzando il balsamo detox di equilibria eccolo qua ok quindi questo è il risultato finale della mia routine a capillare i capelli sono super morbidi super super mobili va bene l'aloe vera lo si sa è molto molto idratante e io ho dovuto fare faticare tanto per strada un po di cristallo di di gel d'aloe vera perché quella che ho io sono un'altra sono un'altra specie e hanno poco cristallo all'interno e quindi però comunque se sono riuscita ce l'ho fatta ed ecco qua i capelli già sciacquati sono super 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 morbidi se non immaginate non immaginate quanto 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 mi piace così stica per lì diciamo corposi di adoro e adoro super idratazione e adesso io continuo con la mia routine ma questo è un altro video grazie mille per aver visto questo video un bacino iscrivetevi al canale ciao